Ed eccoci con Maurizio Musso, è appena terminato questo EZAP che hai vinto, complimenti prima di tutto per esserti aggiudicato questo torneo e ti chiedo com'è essere il campione in carica di Italian Runners? Sono soddisfatto più che altro perché tutto il circuito era sponsorizzato dall'Automatica Poker Club che sarebbe il mio sponsor, quindi ci tenevo a far bella figura, addirittura ho fatto primo, quindi sono molto contento di questo. La mano che secondo te ha cambiato il tuo torneo? La mano che ha cambiato il mio torneo, dunque ci sono state due o tre mani, sono partito giocando chiuso, poi ho avuto fortuna in una mano cruciale in cui ho spinto l'in con Asso 10, chi ha fatto raise avva Asso K, quindi un colpo al 25 che sono riuscito a prendere il 10, poi da lì ho avuto ancora un bel colpo con Asso Asso contro Max Forti che era il chip leader e lui è andato in squizzy con K Jack, io con Asso Asso ho chiamato ovviamente il suo all-in e ho raddoppiato, quindi ho condotto comunque un bel tavolo, ho giocato bene, ho avuto fortuna in con la mano con Asso 10, ma sono contento della strategia che ho adottato. Prossimi appuntamenti dove ti vedremo impegnato ancora in questi tornei di poker? Tra tre giorni c'è il torneo Season 64 giocatori a cui sono stato invitato e grazie al mio sponsor parteciperò con alcuni membri del mio team. Ti vedremo anche ai tornei prossimi di SNAI e poi la notte del poker? La notte del poker sicuramente, rappresentiamo sempre i colori di Poker Club e poi altri appuntamenti dove ci sono dei bei tornei sicuramente ci sarò. Ok, allora ti saluto, ti ringrazio e ancora complimenti per questa importante vittoria. Grazie. Ciao, grazie.